Il cuore che bate al ritmo delle onde, Genova ce l'ha? Ce l'ha, ce l'ha e come, ce l'hanno i genovesi, non solo la città ma anche i genovesi. L'hanno tenuto un po' nascosto negli ultimi tempi ma questo è il momento giusto per tirarlo fuori e per far vedere a tutti quanti che questa è una grande città che può ospitare un grande salone e tutte le due le cose sono un connubio che ha pochi rivali al mondo. Ci sono circa 60 iniziative fatte apposta per i turisti e per i visitatori e per i genovesi proprio per far vedere come Genova può essere vestita a lusso, vestita alla grande per una manifestazione come questa. Abbiamo rilanciato questo settore soprattutto grazie alla creatività, capacità degli imprenditori ma anche grazie alle azioni del governo che sono state fatte in questi tre anni e quindi abbiamo numeri impressionanti. L'anno scorso più 16, quest'anno più 18 vuol dire più 2000 occupati in questo settore quindi siamo davvero molto orgogliosi del lavoro che è stato fatto insieme. È il segno che il sistema mare, l'economia del mare, quella in cui tanto abbiamo creduto con la riforma dei porti sta cominciando a muoversi in maniera molto decisa come dimostrano anche gli andamenti dei traffici nei nostri porti che sono tutti molto positivi e quindi oggi ci godiamo questo bel sole ma anche questi bei successi dell'economia italiana di un settore così strategico per l'economia italiana. Dobbiamo fare in modo che qui, come dicevo prima, arrivino gli investimenti e gli investimenti devono arrivare da un sistema di privato e pubblico che capisce che investire qui a Genova, alla porta del nord Italia rende di più e rende meglio che non investire dall'altra parte. Quando avremo tutti capito questo discorso per Genova avremo raggiunto il nostro obiettivo. Saloni ne ho visti circa una ventina se non forse anche di più. Questa è la prima da sindaco, è la prima volta che parlo con l'autorità e forse anche la prima volta che tutte le autorità che rappresentano tutte le istituzioni sono così allineate con gli stessi obiettivi e questo è molto importante.